Presidente, parte il progetto Start Impresa 2015, quali le novità? Sì, quest'anno siamo alla settima edizione del progetto Start Impresa, un progetto che noi giovani imprenditori ci teniamo particolarmente perché con questo progetto diffondiamo la cultura di impresa tra i giovani e quest'anno la grande novità è che gli abbiamo dato un respiro regionale quindi lo stiamo portando avanti con il gruppo giovani imprenditori di Gran Sasso e con tutto il comitato regionale Abruzzo. Questa è una novità sul percorso di crescita del progetto Start Impresa. Impresa, impresa giovane e più che mai in tempi di crisi bisogna puntare sull'impresa giovane? Sì, bisogna puntare sempre sull'impresa giovane. Diciamo che l'impresa, soprattutto quella giovane, è quella più attenta, è quella più recettiva magari agli sviluppi delle nuove tecnologie e quindi anche a contestualizzare sul territorio gli input che possono venire anche da altri paesi. È sbagliato parlare di ripresa, in quanto noi quello che ormai è un dato di fatto è che sono cambiate le regole del gioco, è cambiato il contesto imprenditoriale. Ecco, se si guarda il mondo imprenditoriale, se si guarda il mondo delle imprese sotto un nuovo, da un nuovo punto di vista, senz'altro ci stiamo accorgendo che è cambiato qualcosa e che comunque le aziende sono pronte e stanno sicuramente rispondendo in maniera positiva a questo cambiamento.